ciao a tutti ragazzi ben ritrovati sui gladiator come promesso la serie continuerà per se mi ho ripreso la voglia di giocarci perché motivo sconosciuto ma andiamo avanti lo stesso so talvolta il touchscreen si fotte rufus hai dimostrato grande abilità con il cat ball come le speranza prego affinché mercurio ti favoresca e questo vuol dire buona fortuna per anche perché prenderò da qualche parte ho capito come se vi ricordate bene abbiamo comprato l'elmo e la spada guerriero del deserto che è molto non cominciare devo devo uccidere qualcuno prima di subire danni e tu non mi farei per poco è no in dove vortice di ferro eccolo qui sto aspettando spero che non mi venga nessuno alle spalle ma che testa di pit l'ho ucciso ti ho ucciso dimmi di sì dimmi di sì dimmi di sì quanto è stato a farci quanto è stato io ho ucciso tre persone stando fermo tipo col pensiero del del che cazzo devo dire devo fare l'acqua combo da 12 non interrompemi la combo brutto testa di cazzo conta vero 23 e me la evita vada minchia diamo sconta si si conta conta hai fatto una no ho sbagliato 12 tu non me la puoi evita però ci aveva sperato e ti aveva sperato di evitare questo bastardino ma nulla può sfuggire al guerriero del deserto e tutti nel cimento perfetto più spero anche oro però per voi niente oro bene quello di oggi è un combattimento speciale non devi uccidere tutti quei poveri idioti per vincere ti basta distruggere i loro totem ha interessante devo distruggere di totem sbaglio l'ho già fatto questo quanto sarà un po difficile perché non devo nemmeno parlare e quindi devo venire schiaffi 12345 c'è un trucchetto per vincere qui cioè vi mettete tra colpisci mi il buon vecchio trucco di ricordate quella volta col boss sono resistentissimi quando sono resistenti totemi scusate ops no non devo parare non devo parare fuori quanti totemi devo distruggere due a non c'è un limite di tempo però e vanti ortodosso cioè non ho capito perché il ortodosso distruttore bene un secondo non è difficilissimo basta che non uso super colpi 23 semi colpite da dietro giuro che aveva pianto tutta quella quella lancia vede uno che si sta sta esultando e un altro che lo butta per terra con un calcio e questo quello lì era un pezzo di bra no vabbè vabbè non potevo farlo senza parare ammettiamolo ammettiamolo via di giro intorno però il grido di gloria il grido di gloria devo farlo e perché ti allontani allora affan cu vabbè vabbè allora le sue spade mi sembrano parecchio forti è una non ha funzionato me l'ha parata e mi ha stordito non farmi fuori eh sì devo cambiare armatura devo decisamente cambiare armatura e spostati due tre e ora ti faccio la combo tale che che distrugge tutto no ho preso un altro e questo solo l'ultimo due tre questo qua lo faccio fuori a suon di spandate cattive crepa ci sotto bravo questo qui non ha voglia di lavorare vedevo che lì che c'erava in tondo così non mi hanno visto però sì 232 e becca al becca al totem brutto come con la spada di ferro come faccio a rompere una roba di pietra e mi ha circondato ma ma io lo dribblo e vado via no questo gioco insegna giocare a calcio in non proprio direttamente ma ma sono circondato e vedete che e basta così e mi ha confuso allora grazie al tipo che mi ha buttato per terra perché sennò non sarei qui e le spade si stanno rompendo sì come faccia vabbè il totem è già mezzo distrutto e spaccati una buona volta mi danno mi dà aia no non lui il totem devi colpire la visuale è tipo non so non me l'ha più locale spaccati mannaggia o mannaggia i vostri dei fortuna che che ne dalmeno due almeno due a cimenti li abbiamo fatti e il terzo era un po impossibile per il nostro livello ennesima volta vuoi cominciare il combattimento senza armi io lo faccio perché mi piace allora io devo atterrare lo stesso avversario con terra tre volte no dieci volte e che palla ora ci ho messo due ore per battere la pugni questo qui io devo andare qui è già la gente con le armi fuori dalle palle ma io non può come faccio a sopassarlo sto carromato io non fammi fuori grazie ha avuto pietà no ora io scappo ora gli faccio un dribbling e scappo via dov'è il cicionissimo quello che mi vende le armi vieni qui ma io con chi sta esultando che è in un tunnel talvolta fanno davvero ridere dai vieni qui aspetta aspetta dribbling e via no no non gira cattroia quella la era una tagliola ma spero fosse non posso dire tagliola spenta perché sono malissimo qua qua qualcuno venga verso il fuoco qualcuno che venga verso il fuoco c'è non c'è la tribuna del del come si chiama grazie uccisore voglio il mio scudo fuck wow che dribbling l'ho bruciato io sono rimasto fermo qui no non posso colpire se colpisco crepo due tre quattro e ora o quanto è bello gli ho spaccato alla destra ha una spada sì una spada bella spada via ora mando di nuovo sul fuoco perché allora ve lo dico chiaramente se mi colpisce una volta io sono morto perché non so come fanno ad avere 100 indigiobo indigiobo non non andare fuoco fuoco stavo per dire non pensavo facesse così tanto danno il fuoco ma dopo mezzo e tu che puoi ma dopo mezz'ora no wow cosa devo fare mi sono di me mi sono dimenticato a devo smembrare di ora tutto 2345 e va bene ma questa mazza poi opi questa un po lentina ovviamente datemi il sacchetto di no a volte ti diranno un sacchetto di erbe che sì che come potete intuire vi rigenerà la vita io me ne vado e tribuna del ciccionissimo dove sei si si combattete voi e combattete eccolo ti prego dimmi che sei tu e dimmi che sei tu non posso resistere così dammi delle erbe medicamentose vuoi comprare o adesso sì che si sta bene e ora andiamo a fotterli come dovevamo fare già dall'inizio fallo cadere bravo fallo cadere così non mi disturberà mentre ti ammazzerò e rallenti fantasticissimo e smembrate avversari fatto ora sempre che non e io ovviamente poterò sfiga e via che cavolo era ora cioè seriamente ci ho messo mezz'ora da ammazzare gli appugni gli altri quanti soldi quanti 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 voglio tanti troppi adesso 6 7 questo è il tipico lavoro che sei sottopagato domani andremo di nuovo in esplorazione in che senso andremo in esplorazione da quello che ho intuito degli assignment ci saranno i leoni anche questa volta perché c'era scritto uccidi un leone senza subire danno e allora voglio dire che c'era un leone e devo fare la prima kill senza subire danno e a quanto vedo anche una spada potente ora che spada è alla come si chiama al stat mi sembra sicuro spadone figo che avevamo visto all'inizio del dello scorso episodio probabile i super colpiti posso è e mi muore e mi muore davanti quando sto per capitarlo cosa ho visto ma c'è che dei gay che casino è quello lì vedo un leone comunque che qualcosa no che abile ogni bisogna spiegato come funzionano no non devo subire danno non devo subire danno wow ce l'ho fatta si si vattene fuori dalle palle leone fuori dai perché seguite me in seguito al leone dai vieni qui vieni qui leone qui guagatone e vabbè come fa ma io come devo gestirli no veramente come devo gestirli e vabbè c'è uno due spade prendi l'altra spada ma non stare stordito grazie chiunque sia stato grazie mi ha salvato la vita tutte le tutte non stante ideoni no quindi erano i gatti vabbè sembra la stessa razza no l'altro l'altro fuck vabbè due dai sono uscita storia no non caricare non carica come faccio a gestire due persone che mi puntano e un leone migliore mi stavo caricare di fare meglio guardateli tutti e due sensi dai 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 il leone già mezzo morto e allora robita fa è morto si e crepo uccido un leone senza non ho non subito danno a forse dal leone intendeva perché danno ne ho subito e come se ne ho subito o forse dopo averlo ucciso questo qua parecchio resiste o vedete 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 la cooperazione contro di me vedete questo qua si chiama gancherismo e non è una bella cosa mortuto tu aspetta un decimo di cosa devo fare a schivare con successo si costi ma si ma si blocca sull'angolino e questo fa bestemmiere qui qui montagni si non è più una montagna quanti colpissimi sto aspettando te quando attaccano sempre meno ecco qua l'ho svegliato spero uno no aspetta un secondo qualcuno mi è fregato il guerriero del deserto io non ho più guerriero o una come si chiama nammasai mi sembra non mi ricordo più quanto quanto schivato uno fu cinque volte quanto devo fare stare qua adesso ma se si incastra sull'angolo io cosa si posso fare o a me non mi interessa io io lo decapito punto e basta potentissimo ma non era l'ultimo nemico meglio di qua si va a un'altra zona ok a te ti mando qua sopra sopra la dagliola e con quale con quale non so nasci va e allora prima si terrori non è che cerca con le mani di togliere no prima si mette a urlare la mani in alto e dopo cerca non è anche come se fosse nel semplice fango lo tira fuori no per fortuna mi ha fatto la parte no 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 che culo io questo va come stessa cosa stessa domanda come lo gestisco come con tutti i nemici venite qui non tu ma allora sei veramente mazza p mazza picchio mi sembra mazza picchio dove l'ho sentito mi sembrava dei simpson tipo che c'era qualcosa chiamato mazza non mi ricordo cosa ma ma voi non mi potete colpire oh no è coalizzati contro di memma che neanche neanche l'asse era coalizzata così e spostatevi due tre se mi colpisci giuro che ti vengo a prendere casa eh questo qui dai vedi il personaggio che si metteva a girare in tondo così ecco perché non uso mai le mazze sono lente come la vita e poi la morte ora muoio oddio oddio due tre quattro stordisciti per il che cavolo eh non è finito dopo la fa ma sono sopravvissuto sono sopravvissuto yeh adesso devo schivare con successo nel senso che devo aver successo wow wow quella era una schivata con successo ma io non capisco come tipo schivata con successo non capisco cosa intende il gioco e mi dice che ho schivato due volte sul con successo mi sa che devo tipo cosa ma mi ha fatto un 360 ero dall'altra parte che colpi siamo alla stessa situazione di poco fa uguale devo farlo salire qui si salire nel senso è bravo idolo perché usano un idolo come non prendere la mazza di prete la presa e stessa fine ciao oddio oggi sono ancora vivo nel senso io scapperei ma come faccio qui adesso colpe se non sbaglio abbiamo ucciso la montagna come a colpetti due e poi lo storisco e poi faccio la combo over 9000 e ma morto non ho fatto gli achievement ve lo ve lo dico già da ora eh non li ho fatti perché se no schiva con successo uno su cinque volte va bene per oggi quattro arene sono anche sufficienti e quindi vi dico tirate colpetti contro le montagne cicioni perché sennò vi fanno il culo con le mazze capite questa è la morale del giorno quindi spero che vi sia piaciuto ci vediamo ai prossimi video e tutte le altre serie e ciao a tutti